L'attenzione al tema della salute, il ruolo del cibo, la toponomastica, la campagna social, il lavoro femminile e anche un momento spirituale. Tante le sfaccettature che assumerà la giornata delle donne 2016 del comune di Macerata, grazie all'iniziativa organizzata dall'assessorato Pari Opportunità, dal Consiglio delle donne e promosse da varie associazioni. Si inizia domenica 6 marzo alle 15.30 nella biblioteca Mozzi Borgetti con il convegno Le donne incontrano la salute, patrocinato dall'assur Area Vasta 3. Lunedì 7 marzo alle 10.30, sede INAIL, incontro promosso dal gruppo Donne Anmil per le politiche femminili, dal titolo Il vecchio e il nuovo, vite di donna a confronto. Martedì 8 marzo alle 10.30 nella sala Castiglioni della biblioteca Mozzi Borgetti, donne al via non solo toponomastica, iniziativa organizzata dall'osservatorio di genere per presentare i risultati e i futuri sviluppi dell'iniziativa social ASTAD le vie delle donne marchigiane, che ha dato visibilità alle figure femminili proposte per intitolazioni di vie nelle città delle Marche. L'iniziativa di lancio dei prossimi mesi di attività dell'assessorato ha a che fare con l'intitolazione di nomi di vie, ma non solo, anche di palazzi, di aule, la stessa sala dove siamo in questo momento, ad esempio la sala giunta, le sale istituzionali della vita politica, del protagonismo pubblico delle persone alle donne. Come vogliamo fare? L'osservatorio di genere ha lanciato insieme ad altri partner un'iniziativa almeno regionale, che poi è andata anche agli onori della cronaca nazionale, che riguarda appunto un processo partecipativo per le donne che proponessero nomi di donne degne, insomma, di avere queste vie, stanze e aule intitolate. L'8 marzo appunto restituiremo i risultati di questo sondaggio partecipativo, ma non solo, perché il sondaggio non soltanto ha scelto a quali donne intitolare le vie, ma ha anche lanciato tante idee, ha lanciato tanti nomi, per cui partirà uno studio tra il sociologico e non solo su questi nomi di figure femminili dimenticate dalla storia che vogliamo recuperare. Sempre l'8 marzo, alle 16.30, Giubileo delle donne con Pellegrinaggio da Piazza Nessione e Santa Messa in Cattedrale col Vescovo Marconi.